Comunque, grazie ovviamente anche Ernesto, Ernesto Belisario, che è stato il nostro partner in tantissime giornate aperte sul web. Potete riascoltarlo, appena lui ci darà il permesso di pubblicarlo, non soltanto tra i materiali di oggi, ma andare anche direttamente sui tempi, direttamente della trasparenza, della privacy, dell'uso delle immagini e quant'altro, sempre molto attuali, attraverso questo nuovo menù espanso che contiene tutte le giornate aperte su web realizzate nella nostra comunità di pratica, più i primi convegni. E troverete in quasi tutte, a meno da quando abbiamo iniziato a riprendere, i filmati sempre arriva a disposizione, anche perché qualche paese su web ha sempre pensato che la cultura è bello in comune, cioè che la conoscenza non è un fatto privato. E quindi ciò che noi facciamo fin dal primo scritto, l'abbiamo sempre messo a disposizione di tutti, utilizzando o poi imparando a utilizzare delle licenze particolari che sono lecce del commus o quant'altro. E quindi insomma ritrovate proprio tutto, non soltanto le fotografie che ho sposto velocemente, ma i contenuti dei vari interventi. Bene, vediamo l'orario, così siamo proprio imposti, no? E farei bravi sui tempi, in modo da consentire, anche questo è un aspetto di comunità, no? a tutti gli ambienti di spazi adeguati. Allora, io vorrei spiegare 11 e 22 e saremmo, vediamo togliere quegli altri, torniamo uno, siamo più che in orario. Allora, prima di dare la parola a Tiziana, anzi no, andiamo subito a Tiziana perché è estremamente legato al discorso di Ernesto, no? Quindi chiedo a Tiziana Viti, di SGA, di una scuola più vicino a Cosinone, se non sbaglio, per la sua relazione sulla trasparenza. Va bene, Tiziana, mi chiedo. Buongiorno a tutti, è un vero lucere e trovarmi di nuovo perché è una scuola di Grazie a tutti. 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 controlli a campione, altre regioni in cui ci sono un'unità più da detti. Ecco, questo per ovviamente essere, io ripeto, ho provato delle slide, ho parlato talmente velocemente che non l'ho fatta vedere, però ecco, io penso che possano essere lo spunto per eventuali formazioni interne oppure comunque anche a livello amministrativo, perché è chiaro, a livello amministrativo, di addendimenti ce ne sono per la sezione amministrazione trasparente che sempre negli orientamenti è diventa una sezione specifica del piano triennale, del piano della prevenzione, corruzione e trasparente. Ecco, le slide ovviamente approfondiscono tutti questi spunti che io vi ho illustrato, per cui c'è l'indice ovviamente dei sei punti che la delibera ANA del 2022, in un aspetto ovviamente che ne esca un'altra magari più performante e sono gli ordini di indicazione ovviamente soggetti a testazioni per l'amministrazione, indicazioni operative, quindi la sezione dei consulenti e collaboratori, l'articolo 15 del degredo legislativo 33, quella che dovrebbe rinviare ovviamente a planate delle prestazioni per i consulenti ma che purtroppo nei link non è così, voglio dire, preciso ogni tanto salta ovviamente e quindi si suggerisce comunque una, ma non lo faccio mai, una ripetizione ovviamente di quello che è, ecco, uno sull'anagrafe, ma non lo faremo mai, Leonardo, no, mai. Lì, alà, il risultato, assolutamente non lo faremo mai perché siamo per l'utilizzazione e processi amministrativi molto veloci, per cui processi amministrativi veloci non implica un lavoro ubicato da parte delle segreti. Pagamenti dell'amministrazione per amministrazioni enti, va bene, questo in particolare paramenti dell'amministrazione, qual è stata la monità? La monità è che non dobbiamo più ovviamente pubblicare l'IPAN, non dobbiamo più pubblicare ovviamente il metodo di pagamento che non sia quello della, ovviamente, della pagoria e questo è un dato di fatto. Quindi anche in questa sezione attenzione a non pubblicare l'IPAN per comunicare. Poi c'è la pianificazione del governo del territorio che non interessa a noi, ma interessa ovviamente ai enti locali, ma io ritengo che sarebbe interessante se la parte per esempio della rendicontrazione sul decreto di sostegno fosse fatta anche dalla pubblica amministrazione istituzione scolastiche, non sarebbe male. Fra l'altro è nuova questa sezione, è di febbraio 2022, per cui ancora è tutta da sviluppare. E poi gli altri contenuti per la attenzione della corruzione articolo 10. Qui ovviamente ci soffermiamo, la trasparenza io credo è uno strumento fondamentale per la strategia contro la corruzione, io ne sono fortemente convinta e il sito deve essere veramente lo strumento per ricevere tutti i nostri interprocessi, processi che ovviamente vedono soggetti e i soggetti vado in chiede, i soggetti ovviamente sono incaricati all'avventimento dei procedimenti amministrativi, che è un sottensievo del processo amministrativo. Per cui per me il sito è veramente un modo di comunicare all'utenza esterna, agli stakeholder, quello che è e che sono i processi all'interno di un'amministrazione, non meri atti ma processi e così dovrebbe essere strutturata ovviamente una segreteria amministrativa. Il lavoro è stato fatto tanto, io esaurisco così l'argomento perché se inizio l'argomento non finisco più, però le slide secondo me sono state fatte anche per spunti di formazione interni quando sarà ovviamente e tra poco lo sarà di nuovo l'obbligo alle contestazioni e gli obbligo di pubblicazione. E spero che non si faccia come lo scorso anno che è stata ricevita come un adempimento nonoso, incomprensibile, affrettato e in realtà come tutte le verifiche contabili e amministrative dovrebbe essere invece semplicemente anzi un momento di successo dell'amministrazione. Va bene.